Le decisioni di Bruxelles influenzano ogni giorno la vita e le scelte professionali di 500 milioni di persone in 28 paesi. Imparare a conoscere le attività e documentarsi sulle normative dell'Unione Europea diventa così non solo utile ma necessario per poter cogliere le opportunità offerte dalle organizzazioni comunitarie. Per questo la consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato al campus universitario Luigi Enaudi di Torino tre incontri aperti al pubblico. Docenti e personale dell'Ateneo in collaborazione con l'Istituto di Studi Europei e la Biblioteca Norberto Bobbio in due ore di seminario aiutano i partecipanti a orizzontarsi nel labirinto delle fonti europee. Dalla giurisprudenza ai finanziamenti per l'impresa e dalle normativa ai programmi Erasmus alle banche dati. L'Unione Europea permette ai suoi cittadini di informarsi via web e in tempo reale con le sue attività disponibili gratuitamente online. È fondamentale però avere gli strumenti giusti per accedere alle banche dati. Lo studente grazie alle banche dati europee può avere un materiale documentativo enorme anche per le tesi di laurea. Lo stesso per i ricercatori, i professori. Gli operatori trovano la normativa, la giurisprudenza, i bandi per poter accedere ai finanziamenti. La stessa cosa vale per gli operatori pubblici. Il cittadino può trovare i suoi diritti, deve sapere quali sono i suoi diritti che sono anche codificati nella Carta dei diritti fondamentali, che è una specie di costituzione, anzi è un valore costituzionale. Quindi ognuno può dall'Europa trarre informazione e poi giudica se questa informazione per lui va bene, come dovrebbe essere. Insomma è un modo serio di affrontare il problema in Europa. Il primo seminario si è tenuto lunedì 28 gennaio. I prossimi incontri sono in programma martedì 24 febbraio e lunedì 27 maggio alle ore 15, sempre al campus in Audi di Lungodora Sienacento a Torino. L'accesso ai seminari è libero, è possibile